D'ormai più di due settimane il parcheggio di via Baldassarre Peruzia a Parco Leonardo è al buio. I residenti temono per la loro sicurezza e si sono rivolti al comune e al consorzio della zona, ma la situazione non sembra trovare una soluzione. Viviamo di fronte a questo parcheggio che è di competenza del consorzio come esercizio e manutenzione, però è un accordo che il consorzio ha fatto con il comune, quindi ci siamo rivolti al comune per sollecitare la risoluzione della problematica. Il comune ci ha dato le rassicurazioni, però la situazione non si sblocca, sono oramai quasi due settimane. Questa è una situazione emblematica e paradossale dell'amministrazione di questa zona, che da una parte fa lustro a tutto il comune, dall'altro però sembra essere un po' abbandonata per questa triangolazione tra cittadino, comune e consorzio. C'è più di un motivo per avere paura, perché la mancanza completa di illuminazione rende vulnerabili sia i cittadini che parcheggiano che i veicoli che sono parcheggiati, perché continuamente nell'ordine di una, due, tre, quattro volte a settimana ci sono macchine che vengono aperte dai ladri, derubate del contenuto che hanno e spesso e volentieri anche furti veri e propri di macchina. Ci si sente molto meno sicuri, tralasciando l'ovvia possibilità di criminalità o aprono macchine di venire aggrediti, ma anche la sicurezza normale, nel senso che camminando puoi pestare qualcosa, inciampare, le macchine possono comunque vedere meno persone, ci sono gatti che girano, ci sono le persone che portano i cani a spasso, per cui è comunque poco sicuro. Tra le possibili cause della mancanza di luce si ipotizza anche un furto di cavi elettrici. Abbiamo trovato un tombino aperto con i cavi totalmente tranciati, tra l'altro il tombino completamente pieno d'acqua ed è stato poi richiuso, ma così è rimasta la situazione. La gente che parcheggia di sera, dopo essere state al cinema oppure ai pub del centro commerciale, torna con le torce dei cellulari, per cui anche sulla base di questo abbiamo pensato di fare un'azione di protesta venerdì prossimo insieme al comitato di quartiere e organizzare una fiaccolata che magari porta un po' di luce, porterà luce a questo povero parcheggio. I residenti chiedono chiarezza nello stabilire le diverse competenze e lanciano la proposta di creare un tavolo di lavoro tra cittadini, comune e consorzio per collaborare e monitorare costantemente eventuali disservizi e problemi di funzionalità.